Si svolgerà per la prima volta a Biella sabato prossimo con inizio alle 14.30 e fino alle 18.30 un evento unico nel suo genere organizzato dalla sezione locale della FIPSAS, la Federazione della Pesca Sportiva, Attività Subacque e Nuoto Pinnato, dal titolo un campione di pesca al mese con il patrocinio del comune di Biella. Nel primo dei quattro appuntamenti che si svolgeranno nel Salone Hospitality del Forum, presso il centro commerciale Gli Orsi, ingresso libero e gratuito dalla Tribuna Gialla, sono stati invitati due campioni di pesca in kayak, Gianluca Aramini, dentista di Pavia, e Andrea Morvillo, campione della provincia di Varese. Il primo già più volte campione italiano di specialità, vice mondiale in Texas e pro staff Shimano. Il secondo ambassador di svariati marchi, esperto di pesca in verticale nei grandi laghi, nonché inventore dell'Art Belly. Entrambi i super pescatori sono della squadra di Ozone Kayak, la società che commercializza in Italia i kayak hobby e che ha collaborato all'organizzazione dell'evento. Il kayak fishing sta spopolando in Italia al punto che conta ormai migliaia di appassionati. Dal kayak, organizzato di tutto punto con la predisposizione per l'ecoscandaglio e per il GPS, si possono praticare svariate tecniche di pesca. I due ospiti sono esperti in quella verticale, traina col vivo e con gli artificiali, spinning in mare a caccia dei grandi tonni oppure nei laghi per catturare gli imponenti siluri o gli autoctoni luci. Spiega lo stesso Gianluca Aramini. Siamo pronti a fornire tutti i consigli possibili per i tipi di pesca che conosciamo. Proietteremo inoltre filmati da brivido con la cattura dal kayak di mostri del mare, fiumi e laghi come tonni e siluri anche di oltre 100 kg. Doveroso sottolineare che i due campioni sono votati al catch and release, ovvero la pratica di rimettere in acqua ciò che è stato pescato. I prossimi appuntamenti con un campione di pesca al mese saranno riservati al best fishing, alla pesca mosca e alla pesca sub.